Si possono potenziare i muscoli solo con il pensiero? Sì. La forza del tessuto muscolare non dipende solo dall'esercizio fisico, ma anche da quello mentale. E lo fa in misura rilevante, sostiene un gruppo di ricercatori dell'Università dell'Ohio, tanto che l'attività cerebrale basterebbe, da sola, ad aumentare la massa muscolare. I ricercatori hanno condotto un esperimento chiedendo a 29 persone di portare un'ingessatura a un polso per 4 settimane. 14 partecipanti hanno poi eseguito, per 5 giorni a settimana, una serie di allenamenti con l'immaginazione, pensando quindi di piegare e stendere ripetutamente il braccio bloccato dal gesso, gli altri 15 volontari sono stati invece dispensati dal compiere qualsiasi esercizio mentale. I ricercatori hanno controllato l'attività muscolare con un elettromiografo, uno strumento che registra i potenziali elettrici del muscolo per mezzo di elettrodi conduttori. alla fine, una volta tolto il gesso, chi aveva immaginato di muovere l'arto, nonostante l'immobilizzazione, aveva perso solo il 25% della massa muscolare iniziale, mentre chi non si era cimentato nell'allenamento virtuale aveva perso il 45%. 100. 100. 100. 100. 100. 100.